Noi siamo orgogliosi di ospitare il seguito dell'Udi in questa serata, ma soprattutto ringraziamo i ragazzi, le ragazze qui presenti, i loro insegnanti perché ci introducono a pochi giorni dal Natale, ci introducono in un clima natalizio di cui sentiamo tanto bisogno. Immagino che in una società che generalmente premia il risultato attraverso la musica si impara invece quanto sia importante lo sforzo. Uno strumento non si impara a suonare in un giorno, in un mese, in sei mesi, ma richiede applicazione. E questo è tra i nostri ragazzi sicuramente. Il festeggiamento del Natale, certamente, ma sicuramente la gioia di riprendere a fare un evento del genere dopo tre anni. Sono tanti tre anni, sapete? Alcuni di questi ragazzi che sono adesso in orchestra non hanno vissuto A presto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.